cari amici ma la tempora currunt aspettiamo che comincino ad arrivare poi dopo diciamo qualcosina sulla signora lagarde perché si dietro potete vedere il lago di cuomo oggi è tanto piatto che che le montagne si specchiano come come narciso ma in questo momento mentre vi parlo la borsa sta facendo meno 13 dopo che ha perso un quarto del valore nei giorni scorsi il famoso spread no quello che una volta ero io no a giudicare da questi cretini era quello che lo faceva salire e così via dato che la signora lagarde nuovo governatore dell'utilissima banca centrale europea in un momento in cui anche un cretino avrebbe capito che bisognava tranquillizzare i mercati o bisognava lanciare dei segnali di ottimismo e positività o quantomeno dire che la banca centrale avrebbe fatto non whatever it takes che se no sembra quello che diceva quello di prima ma avrebbe fatto quello che serve per mantenere la le finanze dei paesi dell'area euro in in equilibrio no è venuto fuori dicendo boh mo noi non siamo mica qua per chiudere gli spread a no non siete lì per chiudere gli spread risultato spread più quasi 20 quasi 30 per cento borsa meno 13 bravi perfetto l'europa vi guarda ieri c'era la wonderlion che diceva siamo tutti italiani l'europa vi guarda vi aiuteremo ma che cavolo ci aiuti se nel momento stesso in cui noi siamo totalmente fermi come paese perché in questo momento il paese è assolutamente bloccato in frigo totalmente prendi e puoi anche paventare il fatto che andiamo in crisi finanziaria ma vedete quando vi avevo detto che tante cazzate che vi hanno raccontato che ci hanno raccontato in passato saranno scoperchiate da questa vicenda perché poi il solito discorso finché vi dicevo io è ma è borghi lui in realtà ve lo dice perché vuole uscire dall'euro perché vuole odia l'europa perché non 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 è non abbraccia i cinesi perché non è europeista perché xenofobo perché razzista perché leghista ragazzi quelli che voi che mi seguite lo sapete ma ma se se uno più uno fa due e vi continuano a raccontare che fa 15 radice di 7 23 42 puoi fare il conformista e metterti anche tu a sparare la tua cazzata oppure poi con un minimo di ostinazione pur prendendosi vaffanculo da anni perché voi capite che io è un po di tempo che mi prendo qualche insultino è però fortunatamente sono figlio unico non ho bisogno di ricevere affetto e quindi e quindi ce lo teniamo me lo me lo son tenuto così e sono e costantemente sono andato avanti a cercare di dire sempre la verità e andrò ancora avanti a cercare di dire la verità che casino ma sì sospendiamo il trattato di maastricht sospendiamo sospendiamo ma chi ma con qualtieri con qualtieri ministro che che cioè lui probabilmente sarà l'ultimo svegliarsi se mai si sveglierà perché uno che ha ricevuto la pappa dalla ciotola dell'unione europea per tutta la sua vita e se tu continui a ricevere la pappa dalla ciotola dell'unione europea puoi pensare che quello invece di essere il il tuo il tuo virgolette padrone il tuo nemico o quantomeno uno che si fa assolutamente gli affari suoi è un po difficile da accettare allora iniziamo subito dato dato che la è la prima a certo minibot al africa quanto non era più comodo quanto non sarebbe stato più comodo se noi avessimo avuto in questo momento in mano in circolo la possibilità dei minibot un'arma in più quando dicevo no servono per uscire da l'evo no non servono per uscire ma è un'arma in più comincia a metterla lì no invece noi belli tranquilli con la gola con la gola esposta al nemico perché tanto in ogni caso ma no sono fratelli sono amici ci vogliono ma scusate ma vi pare normale ripeto io non mi ci provo neanche a fare il virologo improvvisato no che tra parentesi credo che abbiano riabilitato i virologi e medici credo che abbiano quanto meno quelli da talk show abbiano rievaluta fatto rivalutare la categoria degli economisti da talk show no perché noi li a dire ognuno la sua qualcuno aveva ragione qualcun altro diceva cazzate abbiamo visto che anche con la medicina non è esattamente una scienza esatta qualcuno dice una cosa giusta qualcuno evidentemente dice cazzate benissimo chiusa parentesi io in ogni caso non essendo parte di quella categoria non mi ci provo neanche perché è evidente che se mi mettessi a parlare di virologia di cose dopo aver guardato le cose su internet o dopo aver sentito le opinioni di un tot di personaggi che ognuno dice la sua la mia possibilità di dire una cosa giusta è pari a quella di far girare la pallina della roulette quindi evito di parlare di virus di di cosa bisogna fare per contenerlo e cose di questo tipo perché non ne so niente analizzo però una questione altra piccola questione che quando dico che io normalmente ero pagato per analizzare scenari complessi qualche testa di cazzo ci rideva sopra però purtroppo in questo momento questo è da fare che significa non essere virologi non essere necessariamente economisti ma cercare di avere un minimo di visione in questo momento mi pare chiaro mi pare chiaro almeno così qualcuno capisce che diamine sta succedendo e anche la logica di certe scelte come vengono fatte che ci sono in europa due modi totalmente opposti di affrontare questa situazione il fatto che ci siano due modi totalmente opposti significa che o qualcuno ha ragione qualcuno ha torto oppure semplicemente ci sono dei popoli o degli stati che possono permettersi determinate cose e altri che non possono farlo e quindi tanto vale prendere e adattarsi a quello che sono le possibilità del dello stato medesimo allora sì è vero non ho tempo di leggere e rispondere mi vengono fuori sotto i messaggini ma sono talmente tanti che non è che non è che me ne rendo qua approccio inglese l'avete visto ormai loro sono i più espliciti di tutti io avevo fatto accenno nei giorni scorsi alla svizzera è qua dietro giusto per far capire se non so se si vede comunque la 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 montagna qui di fianco eccola qua no ecco qui di qui c'è la svizzera allora loro tutto aperto adesso stanno pensando di chiudere le frontiere le frontiere con l'italia ma gli unici che stanno un po premendo da questo lato sono i ticinesi che sono un po simili a noi come come impostazione ma l'impostazione svizzera inglese tedesca e di un po di stati di quell'area è esplicitamente stata detta da boris johnson vale a dire dice noi non si può contenere lasciamo fare cureremo le nostre persone al meglio possibile se uno ha dei sintomi se stia chiuso in casa non provi neanche ad arrivare in ospedale che tanto perfettamente inutile e al massimo fa peggio una volta che sarà passata poi avremo acquisito la cosiddetta immunità di gregge e possiamo andarcene avanti e tanto chi se ne frega perché se per caso ci fossimo isolati o cose di questo tipo poi tu esci gli altri ce l'hanno e si ricomincia punto di vista inglese anche tedesco e così via quindi non chiudo niente non chiudono le scuole non chiudo niente dicono lasciamo lasciamo che la prendano ecco mettiamola così punto di vista italiano l'abbiamo visto cerchiamo di curare tutti cerchiamo di curare tutti appena abbiamo visto la progressione isolarsi il più possibile la lombardia che stanno facendo veramente dei miracoli per far funzionare la sanità perché per noi per noi che abbiamo una mentalità molto diversa secondo me da quella degli inglesi tale per cui possono anche non so come dire permettersi no un certo numero di vittime per noi ogni vita è importante non importa se uno a 70 anni non è una carne da macello è una persona tanto quanto quindi la sanità lombarda in questo momento sta curando tutti sta curando tutti e lo sta facendo con degli sforzi incredibili devo anche dire che il il governatore fontana o in generale la sanità la sanità lombarda sono veramente stanno facendo un lavoro epico e è il caso di ringraziarli tutti da da dal diciamo dai vertici fino al all'ultima delle delle infermiere o degli oss perché noi siamo qua chiusi in casa e qualcuno magari potrebbe anche sentirlo potrebbe anche pensare che una vacanza piacevole un momento momento divertente c'è della gente che sono all'inferno da ormai ormai da tantissimi giorni e questo lo succede perché perché noi in una maniera in una maniera o nell'altra abbiamo questo tipo di rispetto della vita bene i paesi latini cioè tipo la spagna no così questo tipo se mi se analizzo giusto quello che sta succedendo ci sta seguendo quindi loro sono qualche giorno dietro di noi man mano che gli esplodono i casi arriveranno a fare delle misure molto simili alle nostre adesso il punto di grave decisione dove che noi in questo momento una volta scelta questa strada dobbiamo dobbiamo prendere ovviamente il livello di intensità perché non possiamo pensare che fare dei decreti un po pasticciati come quello di ieri dove dice tu chiudi tu stai aperto il profumiere sta aperto quell'altro chiude o cose di questo tipo perché molto semplicemente ci saranno delle situazioni dove una volta che il messaggio che è stato dato è molto intenso vale a dire rimanete a casa per l'amor di dio è un po difficile nel momento stesso in cui tu dici rimanete a casa per l'amor di dio dire beh però voi andate a lavorare perché non tutti hanno l'abnegazione o il diciamo l'hanno scelto come come ragione di vita quella di dedicarsi alla salute degli altri al rischio della propria come possono essere i medici come possono essere gli infermieri quella è una loro scelta così come i militari o i soldati invece ci sono tanti operai tante cose così perché dicono beh ma non dicono di rimanere a casa allora forse devo stare a casa motivo per cui salvini dice chiudiamo tutto perché una volta che sei andato su questa su questa strada e poi diventa veramente complicato pensare di fare di fare altre cose cosa sarà quella giusta non lo so non lo so noto che c'è però una differenza così grande che fa capire come l'unione europea non esiste perché scegliere delle risposte opposte a una minaccia uguale per tutti è la cosa più palese sul fatto che l'unione europea non esiste altro che amici italiani noi vi guardiamo con cosa ma amici italiani noi vi guardiamo che se pensi che noi abbiamo ragione anche tu germania domani devi chiudere tutto tutto se invece pensi che noi siamo cretini dovresti dire no italiani ma voi siete matti dovete aprire tutto perché se no altrimenti come come si fa altrimenti invece vedono noi che stiamo facendo questo sforzo e dall'altra parte ti dicono ma ci stiamo guardando bravi siamo tutti italiani ma se siamo tutti italiani ma tu fai l'opposto rispetto a quello che stiamo facendo noi e in compenso le istituzioni comunitarie che cosa fanno da una parte c'è lei che arriva lì col suo messaggino ci promette 25 miliardi che sono sempre i nostri voglio vedere che cosa arriva di quei soldi lì dall'altra parte abbiamo la banca centrale europea che in questo momento ma non in questo momento già da da quando da quando settimana scorsa il mercato stava cominciando a andare a patrasso avrebbe dovuto dire signori tu borsa ribilanciati come vuoi perché è evidente che le imprese non avranno più lo stesso valore di prima io non posso pensare no che uno pensi che la borsa sale basta io una vita che ci ho lavorato la borsa sale scende e come ho detto tante volte separa spesso e volentieri il denaro dai gonzi ma ma una cosa è dire va bene ci sarà una rivalutazione del mercato che forse già nei prezzi non lo so o così via un'altra cosa è andare a schiaffeggiare chi sta cadendo se tu in questo momento in una situazione del genere te ne esci invece che con degli statement che avresti dovuto già fare da tempo di tranquillizzazione sulla tenuta in ogni caso del sistema finanziario a qualsiasi costo dell'italia te ne esci con non siamo qua a chiudere gli spread verrebbe da pensare che che vorrebbe a pensare quasi che lo fanno apposta il problema però sarà la Francia perché chi chi pensa di farlo apposta secondo me non ha mica capito una cosa ha capito che la Francia che stanno cercando come al solito come al solito stanno cercando di fare i tedeschi ma in realtà non popolo latino col cavolo che riuscirà a fare il sistema inglese lasciamo fare o svizzero lasciamo fare poi passerà allora gli verrà fuori un casino gigante e non sono tanto un popolo che si lascia tranquillamente mettere o chiudere o chiudere in casa come 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 facciamo noi quindi caro amico ma credo che avrà qualche problemino come se non avessimo comunque quello che volevo dire adesso magari nei prossimi giorni o similari cerco di farne un po di queste dirette così almeno ci teniamo compagnia e così via cosa stiamo facendo noi come politici beh in questo momento stiamo lavorando a sto benedetto decreto per cercare di dare immediato sollievo a chi sta chiudendo è ovvio che la nostra posizione è lievemente complicata perché non siamo noi al ministero noi portiamo le nostre proposte dall'altra parte troviamo Gualtieri e gli altri del in questo momento del MEF che ci ascoltano e poi fanno quello che vogliono loro come ovvio ci sono alcuni punti che devono essere chiariti immediatamente uno fra tutti le bozze o quantomeno le cose che ci hanno dato da studiare o da o da condividere per guardare hanno un buco nelle partite iva questa gente qua che gli facciamo cioè nel momento stesso in cui uno è chiuso a casa non guadagna perché 99 su 100 sta facendo un servizio che non guadagna e come con con cosa con cosa va a mangiare dopo anche tralasciando il fatto che cosa va a mangiare se chiudiamo tutto pure lì non è che le cose nei supermercati o nelle profumerie vengono fuori in automatico cioè prima o poi forse qualcuno dovrà farci qualche qualche pensierino però fatto sta che le partite iva al momento mi sembrano piuttosto dimenticate da questi tipi di provvedimenti stessa roba piccole aziende segnatamente quelle sotto i cinque dipendenti e sono tantissime quelle piccole aziende piccoli studi srl così via che magari hanno due tre dipendenti no e così via beh costoro sarebbe bellissimo per dire stiamo studiando con ovviamente di questi tempi abbiamo delle chat che sono infuocate con la nostra dell'economia con garavaglia con bitonci bagnai che giù a roma e ci rappresenta tutti in questo momento di fronte al governo perché lui appunto essendo lì riesce a parte che il più bravo e quindi riesce in qualche in qualche maniera a tenere le nostre posizioni beh una delle idee che avevamo era il nostro forfettario voi immaginate se io ho un srl con tre dipendenti o quattro dipendenti e la passo forfettario cioè quindi il famoso tolti tutti gli adempimenti e paghi soltanto il 15 per cento del fatturato via l'iva via tutto via qualsiasi cosa e mi consenti di mettere in cassa integrazione in deroga ai dipendenti io credo che e magari dando un aiuto per affitti e per mutui e io penso che a un certo punto uno dice anche quello non guadagna perché è ovvio che che se tutto fermo non non guadagna ma almeno si toglie dei pensieri dalla testa fattura qualcosa paga non lo fa evita di avere delle spese e quantomeno gli semplifica la vita perché ogni volta è sempre la stessa cosa no c'è più adempimenti più cose quindi io sul forfettario mi sembrerebbe una strada giusta nel momento stesso in cui si deve riaprire anche perché quando riapriremo e riapriremo avremo l'occasione di ragionare in termini molto più flessibili secondo me una delle cose che vedo bene in questa situazione è che tutta la marea il marcio l'accumulazione di cazzate che che smontare in modo ordinario legge per legge regolamento per regolamento sarebbe stato impossibile impossibile voi immaginate in condizioni normali arrivavi lì e dovevi far partire il regolamento la legge così questo tipo il passaggio qui forse si può magari sperare che una volta finito tutto potremmo cominciare a ripensare le cose in maniera un pochettino più lineare e un pochettino più ordinata ecco il forfettario è una delle cose che va secondo me in questa in questa direzione per cui io intravedo ovviamente le opportunità io ai miei figli dico che sono fortunati i miei figli ci hanno nella fascia uno 14 l'altra l'altra 16 avevano di fronte un mondo marcio troveranno un mondo da ricostruire bello io sono contento sono contenta non andrete mai al governo è caro amico caro amico vedremo se non andremo al governo vedremo se andremo al governo io ragazzi poi ho scelte di tutti essere si vuole andare avanti con vabbè siamo perdere scelte vostre non divento matto ti posso assicurare per andare al governo tanto in ogni caso mi rimboccherò le maniche cercherò di ricostruirlo questo paese sia dall'opposizione che dal governo che da casa qualsiasi cosa però intravedo delle possibilità di ricostruzione perché se non facciamo enormi cazzate in questa fase e per cazzate intendo cose irreparabili in modo tale da farci totalmente colonizzare sistemare dagli altri il mess è una e vediamo se siamo riusciti a fermarlo come ieri mi pare di aver capito che sia quindi se non facciamo enormi cazzate vedrete che tutta questa enorme massa di idiozie che ci hanno una volta spazzate via una volta tolte dalla testa che il deficit che fa lo spread che è borghi che fa lo spread quando si ricomincerà a parlare di che cos'è la moneta di che cosa sono di cos'è il debito di cosa bisogna fare di cos'è la produzione di cosa serve per rimettere in moto un'economia a quel punto ci sarà da lavorare e forse forse come dico ai miei figli rivedrete quella cosa che chi purtroppo ha provato a tirare la lima nei vent'anni scorsi ha dimenticato che la crescita perché noi ridendo e scherzando è vent'anni che ci sono i lavoratori italiani che ruotano su come come la ruota del criceto e non portano a casa nulla perché per loro la crescita non c'è mai stata bene i miei figli spero che insieme con noi sperimenteranno che cos'è la crescita è la crescita che deriva dopo una caduta sì ma è quello che manda avanti la voglia la voglia di crescere la voglia di fare la voglia di ricostruire queste sono le uniche cose che sostengono un'economia andare avanti i marci ti fa venire voglia come sta succedendo adesso a tanti di dire mi chiudo in casa e vedo quindi vedete l'aspetto positivo tanto in ogni caso ma è che in questo momento più di più di così un al di là dell'enorme bellezza di questo posto che è l'enorme bellezza di tutta l'italia e che sarà ancora poi la nostra la nostra la nostra fortuna ma non andava avanti come la prima non andava avanti invece invece adesso intravedo che che anche se cadremo in basso vediamola così tutti perderemo qualcosa tutti perdiamo qualcosa tutti perdono le certezze che c'erano che c'erano prima ma la possibilità di liberarsi da quel marcio che c'era di quell'immobilismo di quelle balle di quel di quel continuare a girarsi ed essere soffocato anche me che sono deputato della repubblica essere seppellito dalle cazzate dalle cose che arrivavano dall'unione europea regolamento l'unione europea regolamento l'unione europea regolamento l'unione europea ogni volta non poterli fermare ogni volta scritto in una maniera che a me dava volta a stomaco e time length so farter measure e così via forse è un'opportunità che noi dobbiamo giocarci dobbiamo giocarci perché ce la meritiamo perché vent'anni che sputiamo sangue per nulla perché abbiamo dei figli a cui possiamo dare un paese che sarà finalmente più felice più costruito meglio senza infrastrutture che ci hanno ammorbato lo tireremo lucido lo tireremo a canna di fucile lo tireremo bene e vedremo anche poi di sistemare anche un'altra cosa lo tireremo rispettato dagli altri non come ancora oggi avere avere una una lagarde una wonder line che 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 non fanno nulla una che fa finta di di darci la carezzina e l'altra invece che ci sputa in faccia il nostro governo che cosa fa nulla no ovviamente perché sperano sperano aiuti da loro sperate aiuti da chi sperate aiuti da chi qui dobbiamo aiutarci noi e e vediamo vediamo veramente di venirne fuori assieme vi ringrazio e allora prossimi giorni vediamo di sentirci ciao